zombie apocalypse ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo su league of legends e oggi vorrò vedere come faccio schifo nell'account smart cioè che mi diverto a trollare cioè potete vedere le ultime partite che ho fatto queste lasciamolo stare che sono partite fatte da un mio compagno che non è il mio questo account queste le ho fatte io e niente ragazzi 35-1 con i bot cariati qui ho usato per la prima volta Olaf 9-6 dai ci può stare ho fatto 22-7 25-1 e allora vediamo i danni che ho fatto si spiega tutto da solo 49.000 di danni 1.131 va bene con lui 14.000 di danni qui sempre con mastery 35.000 qui Zed era un diamante smart lasciamo stare però l'ho vinta sono riuscito anche a fare 4 la uccisione ragazzi qui con il mondo vediamo 22-3 sempre cariati 41.000 danni qui con timo 13-0 hanno surrendato peccato perché stavo cariando stavo facendo tutto full up c'è raffanculo a tutti buttiamoci tutto il danno magico possibile qui anche lasciamo stare non so come ho perso non me lo ricordo qui 6-2 perché perché hanno surrendato e perché ancora non ero livello 10 non avevo le rune giuste non avevo la punizione come vedete infatti poi l'ho usata perché la punizione ragazzi è un bot donna mia troppo difficile aumentare di livello e poi niente qua non sono le mie partite quindi spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi fatemi sapere se volete se volete vedere uno di questi gameplay vi avviso pentakill non ce ne sono state perché si camperavano però quadruple uccisione ci sono state quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like commentate condividete niente ci vediamo in un prossimo video ciao ciao